Giovanni Franzoni 19 anni l'esordio un copo del mondo sulla una pista d'antologia come la Gran Risa cosa ci racconti di questo di questo esordio emozionato sicuramente una bella sensazione comunque fare la Gran Risa nel circuito massimo è sicuramente difficile perché il livello è molto alto ci abbiamo provato qualche errore magari un po' strafare però alla fine il risultato è quello che bisogna sempre comunque crederci provarci magari le prossime staremo ancora più concentrati per cercare di riuscire a sciare al meglio per entrare nella qualifica per la seconda manche. Adesso ancora prima di natale Coppa Europa è tempo di Supergigante. Sì adesso partiamo per Altenmark adesso avviamo due Superg domani dopo domani poi le vacanze di Natale ci concentriamo subito su que su queste due gare dopo stacchiamo un attimo per Natale ripartiamo ancora più forti di prima speriamo. Con Franzoni anche un altro della Super C Filippo della Vite un esordio in Coppa del Mondo la domanda è la solita sulla Gran Risa emozione? Si è stata una bellissima esperienza perché la pista era preparata perfettamente c'aveva solo qualche scalino in qualche porta ma era perfetta non è andata come speravo perché vabbè sono uscito però ho sciato abbastanza bene cattivo con determinazione e questo secondo me è quello che importa quindi sono soddisfatto è un'attima esperienza. Grazie.